Ciao ragazzi, bentornati in questo mioissimo video Oggi siamo anche con la webcam Quindi dovete subito lasciare il mi piace Perché oggi andiamo a fare qualcosa di easy Se vedete dietro ho già fatto la coltivazione Perché mi serviva un po' di grano per lavpare gli animali E come ho già detto nello scorso episodio Di fare una farm E l'ho fatta off camera Intanto vi dico subito che venerdì ci sarà un video di Catery Setter Questo qua lo caricherò domani Quindi dovete darlo di sicuro oggi E intanto abbiamo pure la webcam Quindi perfetto E non guarderò tante volte la webcam Però guarderò il gioco E qua hanno già iniziato a crescere il grano E meglio perché mi serviva per prendere le pecole E queste cose qua E io ho preparato off camera Ho messo della copia sull'interno della fornace E ho fatto un po' di stone brick No, di stone E io voglio fare dei stone bricks Per fare la casa Le ho lasciate qua dentro Non ci sono tanti però stanno ancora andando nelle fornace Tipo qua Non dovrebbe bastare Per me non basta sta cosa Aspettate Fate così Ok Aspettate che lascio un po' di grano Perché avevo già del grano Quando siamo andati nel villaggio nello scorso episodio E mi trovo abituato a non guardare solo l'ora Ma qua E intanto Dite nei commenti se volete questa inquadratura qua Perché potrei cambiare inquadratura Allora Intanto Volevo creare tutti i restri Tutto No, dai Che scatole Ha già fatto? Ok Ho fatto tutto quello che possiamo fare Quindi non è così tanto come credevo Però ci dovrebbe bastare Allora Facciamo così Non basta Dammi un altro E facciamo Dopo piano piano Ritorneremo Un'altra volta Giù Allora Già che è appena È giorno Perché ho appena dormito Andiamo un attimo su E vi faccio vedere un attimo Qualcosa di molto figo Allora Volevo fare Un altro Sul terraneo O fare Un qualcosa In su Perché Ho già visto Che c'è il deserto E tutte le cose qua E ci sta tanto Un qualcosa di Di sopra Come non appoggiato Alla superficie E Volevo farlo Tipo in questo spazio qua Che c'è molto Molto spazio E È più in alto Di quello che Così posso vedere Il coso La miniera Che sarà Quel buchetto là Che potremmo fare Una bella Cosa Quindi Ho deciso Di fare Andato Lascio il controller Di fare Porco Di fare La casa Di sto Perché è il materiale Che mi piace di più Tipo Da cobre E queste cose qua Mi piace di più Questo materiale qua Cerco di usare anche Del legno Però se c'è un fulmine Dubito Fortemente Se c'è un fulmine Mi spiego Della base Quindi Non è proprio Il massimo Allora Dovevamo fare Volevo fare pure La base E dovrò fare Anche Le scale Quindi Ci metteremo Un po' di episodi E Intanto Volevo fare Tipo Un Allora Se metto qua Due porte E metterò Le scale A pioli Quindi Dovrebbe stare Così Tipo Un nuovo spawner Così Fuck Morì Molte volte Ve lo dico Così Non mi passano Manco Questa altezza qua Dopo Qua metto Tutto per terra Il coso E qua Ci sarà La scala Pioli Che salirà A fine In su Dopo Dovrò fare Tutte le cose Quindi Dovrò fare Tipo Una cosa Dettangolare No Che sto dicendo Dettangolare Avete capito Non farò Tutte le cose Forse Decorrerò Questa entrata Qua Sarà Molto difficile Scendere Salire Ogni volta Però Allora A base Si fa tutto Allora Mettiamo Tutte Ste Cose Qua E dovremmo Fare Delle Scali A pioli E Intanto Qua c'è Altro grano Che cresce Quindi funziona Sta cosa Qua Vedrete Molti tagli O anche Time lapse Quindi Come ho già detto Negli scorsi episodi Dirò via Le time lapse Inizieranno Da soli Quindi Alcune volte Mi fermerò Per piantare Il grano Sento Delle mucche A voler Lasciare una Vive E Anche Volevo Modificare Quest'interda Qua Però Dopo Lo faremo Dovrei Prendere Altra Altra Pietra Quindi Ci vediamo Dopo Aver preso Tutta la Pietra Del Cosso Allora Ragazzi Io Stavo Girando Qua L'ho Trovato Un Lupo Mini Aaaaaah E' carino Ma è questo No c'è un po' Vai Lasciate Inizia Mamma mia E' molto carino Fai solo così Gira 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 E' Così Adesso E' Molto Facile Tac E Cosa sto facendo E' Così Ci devo Un attimo Allargare Sta Cosa Qua Off camera Ho fatto Un po' Di Materiello Scavato Un po' E Mi sono Esplosito I creeper Vedete I buchi E Questi Ci sono I buchi E Mi avanzano Poi Le scale Quindi Dovrò Di sicuro Usarle Per il tunnel Delle Miniere Perché Adesso Qua sto facendo La piattaforma Per fare Tutte le cose Il magazzino Tutte queste cose Qua Però Questa non è la casa Dovrò costruire Sopra la casa Questa è soltanto Una piattaforma Che ho fatto Per Tenere La casa Perché se volete Una casa volante Io no Perché Se cadi Muodi Io A questa altezza Qua Non muori Come non voglio provare Adesso Però Dimani Con due vita Due di vita Spero Guardate Visto Due di vita Però Non ho più Non ho cibo Per Come Di operare La vita Perché Io sono Deficientenata Allora 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 Piantiamo Tutto E andiamo Un attimo Giù Perché Mi serve Cibo Allora Dimmi ai commenti Che 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 cosa Potreste portare Nel canale Perché Nel prossimo episodio Faremo la casa E adesso Abbiamo costruito La base E andiamo a Quella che è Di mosto Allora 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 Facciamo Così Prendiamo Un attimo Ehm Boh Non lo sa Prendiamo Cos'è Qua La mettiamo Qua C'era No C'era Qua E Ditemi Che Perché Vi saluto Anche Nel prossimo Video Quelli Da che Commenteranno Asta Fatta Fatta L'ultimo Asta Salutami E Commentatemi Sotto No Commentate Sotto A Questo Video Qua Delle Cose Che Potrei Fare Nel Canale Perché Non Ho Più Idea Di Che Cosa Fai Ad Esempio Ad Esempio Un Episodio XXL Un Episodio XXL Che Dura Molto Tipo Mining O Esplorazione Tutto Insieme O Nel Quinto Episodio Che Sarà Il Prossimo Ad Ade A Non So Datemi Commenti Perché Potrei Ascoltare Tutti I vostri Commenti Dopo Se Volete Un'altra Inquadratura Se Non Volete La Webcam Se La Volete Perché Nel Episodio Scorsi Non Ho Messo La Webcam Perché Non La Sentivo Di Mettere Però Dopo Ho Detto Mettiamo La Webcam Proviamo Se Vi Piace Un Video Con La Webcam Se Non Vi Piace Vi Sto Piacendo In Molti Perché Vedo Che Supportate Subito Dopo Una Edta Due Lasciate Subito Mi Questo Supporto E Voglio Parlare Che In Toria Di Venerdì Uscirà Sempre Perché Di Sabato E Di Sabato Quando Esco Perché Di Sabato Esco Sempre Fado Dei Vlog Cercherò Di Fare Più Vlog Possibile E Per I Vlog Dovete Subito Lasciare Mi Piace Perché Se Vedete Di Vlog Che Usceranno Da La Mette Dovete Lasciare Subito Mi Piace Quindi In Quei Video Dovete O 7 Mi Piace O 10 Mi Piace Perché Doviamo Ad Aggiungere Quei Mi Piace Perché Il Vlog Come Sapete Già Se Ci Stanno Dal Telefon Occupa Molto Spazio Quindi Non Ne vale La Pena Prima Anche So Un Telefono Che 32 Gigabyte E Intanto Ritorniamo Su Già Che Ditemi Commenti Se Volete I Gameplay Di Server Per Che Potrei Portarli E Intanto Aspettate Un attimo Dov'è La Nostra Postazione Di Salute Questo Qua Per Questo Video Lasciate 5 No Si 5 Mi Scrivete Con Tutti Amici Il Scrivete Il Canale Tutti I Canali Che Sponsorizzo Io Anche Canale Delle Canzoni Sottofondo Senza Copyright E Anche Musical E Snapchat Che Vi Menterò I Ticket Da Qualche Parte Dei Video Che Dovrete Se Seguirmi Perché Vi Do Tutte Le Notizie E Ci Vediamo Nel Prossimo Video Ciao Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.